In tanti mi avete chiesto cosa ne penso di Death Stranding. La risposta è che ancora non ve lo so dire. L'ultima fatica di Hideo Kojima è un viaggio atipico, lungo ed estenuante. Ed essendo completamente assorbito da questo universo ludico, così fantascientifico, ma allo stesso tempo in grado di dare uno spaccato realistico della realtà di oggi, non mi sento ancora pronto per esprimere un giudizio definitivo. Anzi, penso che difficilmente una singola recensione possa rendere giustizia un'opera così complessa e stratificata. Erano anni, insomma, che non mi trovavo di fronte a un videogioco così stimolante. Non sto dicendo che sia esente da difetti o che sia il gioco più riuscito della storia, ma Death Stranding è una costruzione che continuamente stuzzica l'immaginario collettivo e sfida il giocatore ad una prova di resistenza, proponendo soluzioni ludiche e narrative che non possono non mettere in crisi. Ho deciso quindi di proporvi una sorta di diario di viaggio, dove di volta in volta farò il punto della situazione sulla mia progressione all'interno di Death Stranding. A circa 20 ore di gioco mi trovo alla fine del terzo episodio e se i restanti 11 capitoli manterranno la stessa durata, direi che è meglio iniziare da subito a prendere appunti, per non rischiare di dimenticarsi nulla per strada. Questa serie, per quanto non sarà un banale riassunto della trama, conterrà per forza di cose spoiler e approfondimenti sugli episodi trattati, quindi il mio consiglio è quello di procedere di pari passo a questo diario, o di ritornare in un secondo momento a gioco finito. Io sono il Poro Michele e questo è Death Stranding. Se il cinema è la vira grande passione di Hideo Kojima, penso che non possa esistere una lettera d'amore più sentita alla settima arte dell'intro di Death Stranding. Una sequenza dalla regia perfetta ci introduce da subito al mondo di gioco tramite un sapiente utilizzo della narrativa per immagini. Tramite inquadrature ampie e immobili, vengono presentati il ritmo narrativo e il vero protagonista del titolo. Il paesaggio sconnesso di un'America ormai desolata, abbandonata a se stessa. Delle fotografie di una natura incontaminata, spettrale nel suo silenzio, che potrebbero sembrare prese da delle pagine di National Geographic. Eppure qualcosa non torna. Cavi che scendono dal cielo, un arcobaleno al contrario. E poi l'introduzione di Sam e della sua moto, che con il suo design sci-fi toglie subito ogni dubbio. Non ci troviamo nel mondo che conosciamo. L'Incipit in Medias Res non è poi così straniante, perché Kojima già in un certo senso preparato al viaggio in modo graduale, mostrando di trailer in trailer scene sconnesse tra di loro e spesso decontestualizzate, ma che ritrovano subito la loro perfetta posizione una volta avviata l'avventura. La qualità grafica del motore di gioco e l'incredibile resa delle cutscene non sono solo la prova della bontà del Decima Engine. Sono innanzitutto testimoni della trasparenza con cui Kojima Productions ha presentato la sua visione, ed è impressionante notare come il prodotto finale non differisca quasi in nulla rispetto a quanto mostrato in anteprima. In un'epoca dove le promesse raramente vengono rispettate, Death Stranding si presenta esattamente come nei primi trailer del 2016, solo che ora l'alone di mistero dietro a quelle potenti immagini evocative sconnesse inizia a diradarsi. Anche il più ingenuo dei giocatori sa della cronopioggia, della spiaggia, del bridge baby. Solo che ora tutto inizia a connettersi in un grande affresco, e se ci aspetta una lunga avventura spiazza a realizzare che gran parte delle cutscene e del gameplay mostrati arrivano subito all'interno dei primi due episodi. La familiarità insomma si esaurisce immediatamente, e ci si chiede, e ora cosa succede? Fortunatamente è questa la domanda che spinge il giocatore nei primi due lunghi capitoli introduttivi. Se la paura era quella di arrenarsi alla domanda, è divertente? Death Stranding è un gioco che funziona? Direi che la curiosità e il senso di scoperta sono i motori che spazzano via ogni dubbio e garantiscono una progressione fluida e fatta di piccole epifanie. Certo, ci troviamo quasi in una struttura da JRPG vecchio stampo, dove la prima decina di ore di gioco è dedicata esclusivamente alla lenta scoperta delle meccaniche base, alla graduale introduzione del cuore del gameplay che ci accompagnerà per il resto dell'avventura. Abbiamo i primi assaggi di solitudine e contemplazione, un gioco apparentemente incentrato esclusivamente sull'esplorazione spaziale graziata da quelle stranezze tipicamente da Kojima che divertono e perplimono allo stesso tempo. A questo punto è quasi necessario fare un parallelo con l'altro open world più importante dell'ultimo decennio, Breath of the Wild, anche se probabilmente dedicherò un intero video esclusivamente a questo parallelismo. Se l'opera di Kojima è la sovversione dei canoni dell'isolamento moderno e dell'intrattenimento videoludico che punta alla sovrastimolazione sensoriale, anche in Death Stranding, come in Zelda, è lo spazio vuoto a garantire una nuova dimensione di giocabilità. Esiste solo il paesaggio e la nuda interazione con esso, la volontà di scalare un monte e la limitazione fisica del vigore dell'avatar. Death Stranding però riesce a inserire il post-apocalittico in una narrazione che prosegue, a differenza di Breath of the Wild, dove la storia è mero ricordo. Incredibilmente per gli standard di Kojima, gameplay e narrativa vanno di pari passo, garantendo così un ritmo uniforme che non si sbilancia mai verso il puro cinema di Metal Gear. E anche questo confronto è inevitabile. C'è tanto, tantissimo di Metal Gear Solid V in Death Stranding. La dolorosa chiusura delle avventure di Snake consisteva in un capolavoro imperfetto, la giusta intuizione dell'approccio sandbox all'interno di un open world che però non riusciva organicamente a integrare la narrativa al suo interno. Sicuramente è l'episodio che più palese in modo evidente l'ormai prossima rottura con Konami e la sua travagliata lavorazione si ripercuote in una ripetitività strutturale quasi soffocante per il giocatore. Ed è evidente quanto la rete chirale, la connessione che Sam deve ristabilire tra le varie stazioni isolate per riconnettere una società ormai fratturata, ampli il discorso già iniziato con la mother base di Metal Gear Solid V. Alla progressione del personaggio si affianca quella delle strutture che crescono proprio grazie alle nostre azioni di fattorinaggio. Torna quindi la raccolta del materiale, l'espansione fisica degli impianti e la sensazione che si vadano a creare degli ecosistemi che crescono e si popolano durante la nostra assenza. Nel multiplayer asincrono ho trovato forse la caratteristica che più stacca Death Stranding dalla saga di Snake e dall'offerta videoludica odierna. È innanzitutto una perfetta rappresentazione del tema della solitudine che Kojima pone al centro dell'opera, inscenando una cooperativa senza riscontro umano. Sam è solo, circondato da orme e tracce residuali di altri fattorini che compiono le sue stesse azioni nello stesso momento e nello stesso luogo senza però mai incontrarsi. Allora è la rete chirale a restituirci non il contatto umano, tanto disprezzato da Sam, ma la possibilità di una cooperazione sociale. Ogni qualvolta collegheremo un nuovo avamposto alla rete chirale delle UCA, il paesaggio si trasformerà radicalmente perché potremo usufruire da quanto lasciato da chi ci ha preceduto. E questo altruismo è paradossalmente disinteressato e narcisista allo stesso tempo. Si costruisce per progredire e rendere meno stile l'ambiente, eppure si dissemina la mappa di indizi e aiuti pensando sempre al prossimo, non necessariamente per venire l'incontro, ma prima di tutto per essere riconosciuto e apprezzato, con la moneta più rappresentativa degli ultimi tempi, il like. Insomma, il guerriero leggendario è stato rimpiazzato da un fattorino influencer che sale di grado accrescendo il suo ego attraverso l'apprezzamento altrui. Riflessioni concettuali a parte, vorrei soffermarmi ancora di più sul gameplay che sembra veramente il cruccio di tutti quelli che nutrono una buona dose di sospetto nei confronti di Death Stranding. Per quanto il mio possa essere un giudizio parziale, credo di aver già inquadrato alcuni punti fondamentali. Il combattimento contro i muli e le fasi stealth contro le creature arenate non sono il cuore dell'esperienza, sono una necessaria interruzione, ma sono forse tra gli elementi più statici dell'intero gameplay. Si sbloccano sempre più gadget per affrontare le criticità in modo differente, ma non c'è nessun tipo di ricompensa concreta nel liberare una zona dai muli o nel sopravvivere alla cronopioggia senza essere individuati. L'avanzamento e la progressione risiedono nell'unica vera sfida del gioco, l'esplorazione. Credo che pochi titoli siano riusciti a soddisfarmi come Death Stranding, nel suo essere in grado di far percepire il senso di crescita del proprio alter ego. Come cambia la percezione spaziale nel momento in cui il sapiente posizionamento di un ponte ci risparmia decine di minuti di viaggio, così come la semplice capacità di portare sempre più carico sulla schiena in modo composto ed equilibrato diventa una delle conquiste più significative di sempre. La chiave come al solito è l'interazione ambientale. Horizon Zero Dawn regalava degli scorci mozzafiato al costo di uno scollamento totale tra protagonista e ambiente. Kojima prende il desima engine e leviga ogni superficie affinché possa essere calpestata in modo differente da Sam. L'inclinazione del terreno modifica il baricentro, la corrente dei fiumi ti trascina via, il vento affatica movimenti e i rapidi cambi di direzione fanno perdere l'equilibrio. Sognando i paesaggi degli Stati Uniti d'America ho sempre pensato che la loro bellezza derivasse dalla loro sconfinata grandezza, una monumentalità che ridicolizza la dimensione umana e ci fa sentire incredibilmente piccoli e fuori luogo. Ecco, l'America di Death Stranding è proprio questo, un ambiente ostile e inospitale proprio perché fuori misura e stare a noi riconquistarlo passo dopo passo per renderlo nuovamente abitabile e non solo calpestabile. Chiudo parlando dei difetti, che ovviamente ci sono. Death Stranding non è un gioco per tutti, ma non perché sia noioso o poco divertente. Mi dispiace ripeterlo ma lo farò all'infinito. Se pensate una cosa del genere ascoltando solo le premesse del gameplay, dovreste prima di tutto rendervi conto che la ripetizione è alla base di qualsiasi gioco e la possibilità di divertimento non è assolutamente una formula matematica. Il problema di Death Stranding è che spaventa nella sua complessità. Non importa che i capitoli introduttivi siano lunghissimi e continuamente accompagnati da tutorial. Dal terzo episodio, quando il giocatore si affaccia sulle reali potenzialità del gioco, ci si sente soffocati dalle informazioni. Ci sono tantissime cose a cui pensare e coordinate di cui tenere conto e i menu vanno padroneggiati. Non sono intuitivi e non sono semplici. Consentono sì di interfacciarsi al meglio con la complessità strutturale di Death Stranding, ma non sono perfetti e anche se lo fossero richiederebbero attenzione e pazienza. Qualità abbastanza lontane dal giocatore medio di oggi. Parallelamente alla macchinosità dei menu torna anche la ripetitività delle scene animate associate alle azioni comuni, elemento che dilaniava anche il gameplay di Metal Gear Solid V. Qui la situazione è migliore e le scene reiterate sono tutte schippabili. Viene da chiedersi però quale sia il senso di queste scelte narrative all'interno di un gioco la cui longevità si attesta intorno alle 50 ore. Ad esempio, l'idea dell'interattività della stanza privata di Sam è geniale e realizzata in modo impeccabile, ma un impianto del genere non può che tediare il giocatore sul lungo andare. C'è veramente bisogno della scenetta della doccia o del poggiare i pacchi? Sono scelte che allontanano Kojima dal giocatore e forse lo avvicinano di più al cinema neorealista, nel tentativo di raccogliere istanti di vita senza alcun fine narrativo. E il gioco è pieno di soluzioni ludiche di cui non se ne sentiva assolutamente il bisogno, ma che è innegabile donino carattere all'esperienza. A cercare il pelo nell'uovo non mi convince neanche la fisicità dei veicoli, lenti e senza attrito, decisamente scollati dall'ambiente. Aiutano enormemente nelle traversate, però non restituiscono lo stesso feeling del passo di Sam. La sensazione è che il paesaggio di Death Stranding sia fatto per essere calpestato e non attraversato su delle ruote. Per ora mi fermo, anche se ci sarebbe ancora tantissimo da dire. In ogni caso, penso di aver raccolto, in un discorso un po' confuso, i miei pensieri durante i primi episodi del gioco più importante di questo 2019. Non è un let's play né una recensione, è il mio diario di viaggio e vorrei sapere anche le vostre impressioni, come siete stati colpiti da Death Stranding. Io sono il poro Michele, torno a fare consegne, ciao.